Il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ha incontrato al porto di Ancona, dove è arrivato in elicottero, l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, attualmente collaboratore della regione Lombardia nella gestione dell'emergenza coronavirus. Bertolaso ha trascorso la mattinata nelle Marche per dare il suo contributo di massimo esperto. Insieme, Bertolaso e Ceriscioli, nel corso della mattinata, hanno effettuato i sopralluoghi nelle aree individuate per la realizzazione di 100 posti di terapia intensiva in una nuova struttura. Ho individuato la location giusta per fare questo intervento, abbiamo dato le indicazioni per attivare subito il progetto di questo centro, adesso i nostri tecnici faranno tutti i rilevamenti per avere la certezza che la struttura sia idonea ad ospitare una struttura così complessa e articolata come è un grande centro di riarimazione. Quindi ho lasciato qua il mio braccio destro, che è la persona più indicata per fare tutti i rilevamenti e fare la progettazione e fra appena domani o dopodomani avremo luce verde e partiremo con l'acquisto dei materiali, la predisposizione delle strutture. Insomma è un programma molto complesso, stiamo replicando quello che si sta facendo a Milano. Io spero che se non ci saranno ostacoli, se tutto quello che ci sembra fattibile lo sarà davvero, immagino che fra una decina di giorni potremmo essere pronti e il tempo necessario a questa regione il tempo stringe, è una corsa contro il tempo, se la rispettiamo in dieci giorni dovremmo essere in grado di poter fare in modo che tutti i marchigiani che hanno bisogno di questo genere di assistenza così importante, sofisticata e delicata possano averla. Qui con me c'è il primario di anestesia e rialimazione dell'ospedale di Lodi che come sapete è in prima linea dal primo giorno, ha avuto la disponibilità di venire con noi, ha fatto uno staff con tutti i suoi colleghi dell'ospedale Molinette, ci sono scambiati informazioni, questa guerra, questo virus è una guerra nuova, diversa, difficile quindi chi è stato in prima linea dal primo istante oggi trasferisce le esperienze a chi sta incominciando ad affrontare questo problema, questo si chiama gioco di squadra, speriamo che in Italia tutti lo capiscano e tutti lo facciano.